Fai riuscito alla nuova patch e hanno aggiunto una nuova zona della mappa che secondo me è dedicata ai mondiali di calcio Perché è un nuovo campo da calcio gigantesco, è il più grande mai fatto nella mappa di Fortnite E dato che stanno per iniziare i mondiali non credo che sia una coincidenza Il nostro obiettivo, scendiamo lì, cerchiamo di decidere tutti i player Io ho provato una volta che c'erano 35 player, manco fosse i pinacoli e c'erano 4 armi in croce, quindi sarà dura Conquistiamo il campo da calcio, ci sfidiamo 1 contro 1 e riproduciamo la finale dei mondiali Siamo tipo Messi contro Ronaldo Perfetto Però non sappiamo calciare neanche il pallone Io non so niente di calcio, però va bene In sto gioco sfiori la palla e vada all'altra parte Certo, però è un dettaglio Allora, la zona ferettina, si vede già dalla mappa, è leggermente sopra Parco E se tu confronti la grandezza infatti del campo da calcio di Parco con quello nuovo, è tipo il doppio Cioè è uno stadio comunque, è totalmente uno stadio No davvero ci sono le tribune, c'è tutto, è bellissimo È ovvio, hanno fatto lo stadio Sì, infatti è una figata Comunque hanno cambiato anche il busto, il pallone è cambiato Sì C'è anche qualche altro effettino Carina sta roba Un po' di modifiche ci sono La mia domanda è, secondo te questo campo da calcio rimane oppure ce lo tolgono? Bah, non lo so, cioè ti direi comunque la città per il capodanno cinese alla fine è rimasta Esatto E questo sarebbe carino da tenere perché uno stadio comunque ci sta Esatto, quella zona poi comunque la popoli un po' di più è interessante perché se non vuoi scendere a Parco è una bella location Ci sono buone probabilità che rimanga Io sarei felicissimo anche perché poi se tu vedi un pochettino così già dall'alto dopo il campo c'è una sorta di tipo triplo capannone Sì Che un'altra piccola zonettina che non c'era prima No, è carino Quindi comunque andò Beh ci sta perché comunque secondo me in questa zona non scendeva più nessuno Esatto Quindi tenerlo per ripopolare e spargere di più i player secondo me è un'ottima cosa Allora sono uscito a scendere su un fucile a pompa Anche io sto uscendo Va bene Steph, non importa Ah Ho trovato dei proiettili Vediamo Cavolo abbiamo pensato la stessa cosa È su di te? No, 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 stanno sparando dentro ma ci sono armi qui dentro? Ogni tanto Allora sono negli spalti sopra e ho appena trovato una mitraglietta quindi non va bene Dove sono? Ah li vedo, li vedo dall'altra parte degli spalti Ok li ho visti? Aspetta che prendo un vampire Però non ho niente Io non ho neanche un materiale E neanche io Ok Oh colpito Fa pochissimo danno sta mitraglietta ovviamente però Almeno un po' l'ho colpito Andiamo via Spostiamoci Scusa Steph dove passare il metodo? Di cose li parano gli hit Non lo so Quanta gente c'è poi? Eh suppongo tanta Steph Hai tratto qualcos'altro? Eh no Qui c'era una cassetta Qua c'è un fucile a pompa Non ce l'hai vero? No Qua sotto Qua sotto Qua sotto Ok Arrivo Però c'è Eh sì La voce però Ok Allora mi tiro una benda Ok È una figata a flettare qui dentro È anche divertente Oh è bello È bello Anche questa parte sotto è bella È molto carino come l'hanno fatto Il problema è che giustamente Anche se eravamo molto lontani dal taglio Qua c'è la zona delle cronaca Comunque questo qua è il campo da calcio Raga ma spero Di farmelo vedere più tardi Quando avremo vinto il fight Ovviamente E c'è minimo un altro team ancora Siete Sotto di noi c'è qualcuno Sento lì Una terra Ahia ma ha fatto male Uccisi Yeah Cosa avevati di bello Fucile da cecchino Fucile a pompa blu Se lo vuoi Yeah Il pompa blu ce l'ho Cecchino me lo prendo Non avevano un fucile d'assalto Che tristezza Eh tirati quelle bende Certo Sì ho notato Io ce ne ho Anzi tieni Cioè non è il top Però No va bene Meglio di nulla Dato che comunque è un emestilice bianco Almeno Ti ci puoi arrangiare Allora Dopo che c'è la zona dove si mangia Un po' povera Devo dire Cioè se è tipo È lo stadio per i mondiali Qua non basta Ci vorrebbero più camioncini Eh sì Ci vorrebbero molti più camioncini Molti più parcheggi E cose del genere Ma vabbè Qua c'è una chest Eh Questa era la chest dei mondiali Fare Ok C'era uno scar leggendario Allora sì Assolutamente sì Che cavolo è sto leone Vuoi vedere È bellissimo Eh vabbè È gigante Si può rompere Magari ha qualcosa dentro Tipo un easter egg No dai Abbiamo semplicemente distrutto Un leone È bellissimo Esatto Allora dobbiamo fare la partita di calcio Che siamo lontanissimi Mi tieni questo scillino Grazie Tiratelo Partita di calcio E poi dobbiamo correre Che siamo davvero molto lontani Molto lontani Sì Non so se faremo in tempo Ah qua c'è l'upgrade della mia mitraglietta Che mi piace molto Prendo questo E l'ho buttata io Steph Ah potevi dirmelo T'avevo detto che ce l'avevo Ma non la volevo Ok Allora pronta Io non l'amo particolarmente Sì Attenzione Non c'è nessuno in campo Ne vuole approfittare per fare il gol Parte sulla faccia Fere è veloce Sono veloce Sono veloce Steph Vai via La calcia Ma dai No Ed è gol Ho detto magari si si 1-0 signori E lo segna anche lì nel tabellone gigante Beh Questa è mia Ma perché va così storta Steph Via Ok Togliti Dov'è il pallone Riparte sulla faccia Ma la gabbotto Steph lo vedo per un altro punto No dai Perché sei una pera Ok Sì Mando fuori Mando fuori Pur di non farti segnare Però non c'è l'arbitro Attenzione Ma è scomparso Ah no è qui Riparte È una tristezza giocare a calcio Steph Sto gioco Ok stiamo facendo i bei passaggi Steph Se collaborassimo Opla Via No Ok Vattene Dai E via 2-0 Arrivederci Ciao basta Via Voglio fare un gol anch'io E vai a segnare la sola allora Perché non ti faccio sentire Ma siccome c'è anche qualcuno in giro Non lo so Magari sono i rumori della partita Allora Ho fatto gol Che bello Brava Andiamo Carina sta zona Bellina È carina Lo stadio è bello Bello grande Avrei voluto esplorare anche i capannoni Però fortuna vuole che siamo fuori zona di 72 km Certo E quindi ci do a cappedalare Con questo taglio sarà un problema Vogliamo andare a vedere un pochettino Gli altri capannoni che ci sono vicini al campo da calcio Perché così ci vediamo anche quello Abbiamo esplorato tutte le novità Però con questo taglio Sarà divertente Sarà tosto Cioè proprio lo prendiamo in pieno il campo da calcio Perfetto Quindi mi aspetto un po' di team Allora Cappannoni Mi pare che siano tre Due piccoli E uno un po' più grande Io non li ho proprio visti Quindi non ho idea di cosa aspettare Non sono mai entrato neanche io Quindi questa zona non l'ho mai vista neanche io Però all'incirca mi potrei aspettare Un 4-5 ceste totali Che potrebbe non essere malaccio Quindi scendiamo direttamente lì E poi spariamo anche quelli del campo da calcio Tanto noi il campo l'abbiamo già visto Quindi non ci interessa Lo vedi dall'alto E uno grande e due piccoli Proprio quelli piccoli piccoli classici Sembrano piccoli piccoli Quelle stanzettine Non proprio capannoni Il capannone grande è solo uno Esatto Mi sembra di vedere così Quindi Allora molte meno di 4-5 ceste Direi sì Forse sono due ceste qua Forse qua siamo poveri Se ti va bene Se ti va bene Se ti va male Due munizioni e una granata Allora Punto direttamente Mista al tetto Ok O forse qua Guarda qua sul Sul camion c'è il fucile a pompa Se te lo vuoi prendere Io entro direttamente Vediamo com'è Perfetto Che sembra? Ah Vabbè no è carino Carino È una specie di set cinematografico Con gli spalti pure Carino Non mi aspettavo di vedere Un posto particolare così Me lo aspettavo Guardate Sei come? Più che set cinematografico Come tipo degli spogliatoi Per il campo da calcio Ci poteva stare? Io me lo immaginavo così Invece l'hanno fatto diverso Una caruccio dai Dov'è? Però c'è una ceste Eh la sento anch'io Però non lo so Non c'è un passaggio sotterraneo Aspetta no Quando ero qui sopra La sento qua Anche io la sento Ah qui sopra Ah ancora più in alto Sì 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 Qua tipo Ci sono anche altri palettes Perfetto Ok Ok Hai visto che c'è un'altra ceste? Guarda verso sinistra Tutto in fondo a sinistra Ah eccola sì Non l'avevo vista Riesci a prenderla? Sì Ok Allora ho un fucile a pompa in più Ma vero che c'è già Quindi non credo ti serva Sì sono poster a pieno Cecchino Viola Ok Vai prenditi tutto Quella ripetizione Tirati lo shield E mi sa che andiamo a fettare Ok Comunque devo dire Che i materiali Che non ci sono al campo da calcio Raga effettivamente qua ci sono Perché qui devi fare ancora altri palettes Che hai preso tutti tu Steph ovviamente Dentro ce n'era parecchio C'è pure un carrello Interessante da sapere Ok Vediamo sta roba Qui dentro Lì cosa c'è? Ceste no? No Trappola Ah no sì 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 Non l'avevo vista Quindi abbiamo aperto tre ceste Sì Cambio un altro ceste Fere Quattro ceste Alla fine la tua previsione era pure giusta Guarda Sì È vero E M16 qua se non ce l'hai? In effetti No l'ho appena trovato Bianco Bianco è quello sì In effetti Carino perché se vieni prima qua Ti fai un po' di legno Un po' di proiettile Alla fine vai al campo da calcio Abbiamo fatto un totale di 500 mazze Tra me e Fere Stanno fightando al campo Quindi andiamo E poi hai notato Non è scuso nessuno qua Quindi tu con calma lutti E poi vai al campo da calcio Vabbè tanto al campo da calcio Verrà gente ancora solo per qualche giorno Eh vabbè non si sa Magari rimane una meta Che comunque viene Oh l'hai sentito Quell'headshot di desert? Ti ho fatto male Non sai più che fare È vero? Sei lì Allora ne ho visto Vorresti scomparire dalla mappa Perché sai che stai venendo rasciato E non mi fa parlare Sei in difficoltà E infatti vai a terra Uno alla nostra sinistra Steph L'ho visto entrare nel campo da calcio Eccolo c'era uno qui nel tetto Mi nascondo Nel tetto? Nel tetto mi è sembrato che fosse partito un colpo eh Gente Ah eccolo Mi ha dato una bella sverla Uh Che lavoro C'è qualcun altro Sopra la montagna Non so da dove stavano arrivando Li vedi? Sì E c'è qualcun altro al campo Dietro di te Beh Steph ciao Ma è follia sta roba E poi mi sono arrivati gli altri No vabbè Allora il campo da calcio è off limits Secondo me almeno per una settimana Vedi che avevo ragione Che bene gente Cavolo Che figata Sì dai divertente Comunque Cappanoni super promossi Il campo da calcio è carinissimo Devo dire che Mi piace questa aggiunta Non è per niente male ci sta Soprattutto così niente annunciata È stata davvero piacevole a scoprire Ci fermiamo così Ovviamente raga domani uscirà un video sulla nuova arma Vogliamo fare qualcosa di un po' particolare Quindi ce lo teniamo per domani Perché va un pochino preparato Qua sotto compariranno altri video di Fortnite E di altri giochi E iscrivetevi al canale Cliccate la campanina se non avete fatto Ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao